Musica Ben ritrovati dal Tg della redazione di Venezia. Protesta ieri pomeriggio di 5 presidenti di municipalità su 6 nei confronti della decisione del primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro che da alcuni mesi ha sottratto le deleghe alla municipalità centralizzandole tutte in capo alla giunta. Un modo per avere tutta la situazione sotto controllo e le decisioni in mano ad un solo organo così ha commentato Gabriele Fumai vicepresidente della prima commissione consigliare. I presidenti delle municipalità lamentano l'impossibilità di prendere decisioni in tema di servizi sociali, asili nido e anche viabilità. Unico astenuto è il presidente di Favaro Marco Bellato che invece condivide l'accentramento proposto dal sindaco. Frattura Fucsia invece a Caffarsetti si è dimesso da capogruppo della lista Brugnaro il giornalista Maurizio Crovato. L'annuncio è arrivato lunedì mattina via mail agli altri consiglieri del gruppo che fa parte della maggioranza. Con il sindaco, ha detto Crovato, non c'è stato alcun chiarimento. Il motivo delle dimissioni irrevocabili starebbe in una discordia su alcune tematiche proprio all'interno della compagine Fucsia. La stoccata di Crovato al sindaco riguarda proprio la mancanza di collaborazione tra primo cittadino, assessori e gruppi consigliari in cui si possa avere effettivamente voce in capitolo. Come nella delibera sui flussi turistici o sulle nomine dei membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione Bevilacqua La Masa che dice Crovato dovevano riguardare persone attinenti al mondo dell'arte requisiti invece disattesi. Coesiano e popolare il movimento dell'assessore alla sicurezza del Comune di Venezia Giorgio D'Este ha inaugurato una nuova sede ed è pronto per le amministrative 2017 nel Comune di Marco. Vediamo. Prima i cittadini è questo il motto della realtà civica coesione popolare, il movimento che concorrerà alle amministrative del 2017 a Marcon e che vede già all'opera una trentina di attivisti. E' una sede in Viale San Marco sopra all'Ulso, un luogo, ha detto il presidente Giorgio D'Este, dove i cittadini potranno fare domande e ricevere risposte, esporre le loro lamentele e le idee per far crescere la comunità di Marcon. Mi fa piacere presentare oggi questa nuova circoscrizione di coesione popolare, una trentina di attivisti sindicativamente che si sono già spontaneamente promossi proprio per darci una mano a fare un lavoro cittadino, civico e quindi allungare questo braccio di coesione popolare dal Comune di Venezia sino a Marcon per le prossime amministrative del 2017. Cittadini i veri protagonisti hanno rimarcato i due coordinatori di circoscrizione Antonio Dell'Anne e Antonio Asquino e fatti concreti che aiutino a risolvere le varie problematiche quotidiane legate alla sicurezza, alla scuola, al sociale e che rilancino anche l'imprenditoria locale. La sicurezza, la mancanza della videosorveglianza che è stata più volte richiesta su questo territorio e poi un'altra problematica che comunque non è da sottovalutare è la scuola. Noi non proponiamo nulla, abbiamo delle idee sicuramente, ma vogliamo che ci siano anche delle idee di cittadini e se sono realizzabili perché no. Quindi l'obiettivo nostro è quello di realizzare idee che siano poi un miglioramento per tutti. L'appuntamento con la cittadinanza è già stato fissato ed è per venerdì 21 ottobre alle ore 18 nella sala del centro civico per iniziare a raccogliere le prime istanze. Passiamo adesso con le altre notizie della cronaca. Si sono introdotti domenica ancora all'alba nel locale Gusto Click di Via dell'Elettricità a Marghera. Il locale è aperto 24 ore su 24. Questo con il chiaro intento di mettere in atto una rapina, ma i due malviventi sono stati scoperti da un dipendente. Ne ha scatturita una colluttazione al termine della quale i due ladri sono riusciti a scappare. Il dipendente e la polizia, anche grazie alle immagini delle telecamere, hanno identificato i due. Un moldavo di 20 anni e un ucraino di 21 anni che stavano per perpetrare un nuovo furto in un appartamento, questa volta in Via Verdi a Mestre. Bloccati sono stati denunciati a piede libero per rapina impropria. I ladri entrati la scorsa notte, ancora una rapina, un tentativo di furto, all'osteria storica La Pergola che si trova a Mestre, in una laterale di Via Piave. Non sono riusciti però a svaliggiare la cassaforte e così hanno cercato di arrafare quel che potevano. Un bottino di alcune migliaia di euro, oltre ai portatili dei camerieri e una telecamera del valore di 500 euro, ma soprattutto un bel po' di bottiglie di vino pregiato. Doveva scontare quattro anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, pena inflitta dalla Corte d'Appello di Venezia, successiva all'azione denominata Serpe. L'indagine individuò l'esistenza in Veneto di una vera e propria associazione a delinquere di stampo mafioso, affiliata al clan dei Casalesi, dedita a distorsioni, minacce, lesioni e usure. Donatella Concas, quarantenne originaria di Tortoli, appartenente alla Cosca, è stata arrestata ieri a Malta su richiesta della Procura Generale di Venezia. La donna aveva fatto perdere le sue tracce ma alla fine è stata individuata proprio a Malta. Nelle prossime settimane sarà estradata in Italia. I coimputati della Concas sono tutti in carcere già da tempo. In manette a quel tempo finirono una ventina di persone con condanne inflitte a più di 120 anni di reclusione in totale. Una quindicenne originaria del Sud America ma residente a Savona è stata ritrovata vicino alla stazione ferroviaria di Mestre dopo che era scappata di casa. La fuga era avvenuta dopo il rimprovero dei genitori che avevano scoperto delle foto. Osè compose inequivocabili sul suo cellulare. La ragazzina voleva raggiungere un uomo di 32 anni residente a Casale Sul Sile. I due si sarebbero conosciuti in chat ma è stato proprio l'aiuto dell'uomo ignaro delle intenzioni della giovane a farla riconsegnare ai genitori. E dal mare ancora nessuna traccia del 58enne tedesco Hermann Ruck disperso a Caorle mentre cercava di attraversare il canale in barca con la moglie il cui corpo è stato invece trovato giorni fa. Ieri sono proseguite le ricerche e la guardia costiera ha continuato a scandaliare il tratto di mare che da porto falconera di Caorle si stende fino a Jesolo. Anche i sommozzatori si sono nuovamente immersi nel punto in cui è stata ritrovata la barca con il corpo della moglie. Le ricerche continueranno anche nei prossimi giorni. A Caorle la notizia ha lasciato sgomento tra la cittadinanza e i molti amici della coppia che dal 1998 frequentava il nostro litorale. Questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio in compagnia dei nostri programmi e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Grazie. Grazie.